buongiorno a tutti amici bentornati sul mio canale benvenuti ai nuovi visitatori spero che il mio lavoro vi stia piacendo e oggi leonard vi propone una recensione di un album che ormai ha fatto storia di un anime che ha fatto storia di un fumetto che ha fatto storia ovvero il manga di dragon ball di akira toriyama in questo momento in cui sto registrando qualche mese che akira toriyama è venuto a mancare e quindi il creatore originale di dragon ball purtroppo ci ha lasciato in una età anche abbastanza giovane oggi volevo parlare appunto di questa pubblicazione e di questo albo stiamo parlando di un albo che ormai è uscito tantissimi anni fa nel 1995 e vi racconto un po di come l'ho conosciuto come è stato il mio rapporto con dragon ball e come qual è stata la resa praticamente di questo fumetto in italia allora molti di voi l'avete sicuramente conosciuto con il cartone animato che era stato pubblicato in quel contenitore che era junior tv negli anni fine fine anni 80 inizi anni 90 91 92 ricordo di averlo visto con una devo dire sincera verità una doppiaggio non proprio eccezionale le voci non erano proprio eccezionale in queste in queste reti minori ed era stato pubblicato ne sono state pubblicate un certo numero di episodi non era mai stata realizzata tutta la serie quindi si arrivava ricordo che si arrivava al secondo torneo di arti marziali in cui koku ovviamente era ancora piccolino e poi la serie finita nel dimenticatoio non è uscita per tantissimo tempo poi è stata ripubblicata nel 97 sempre su gtv un altro contenitore nell'estate tra 97 il 98 è stata ridoppiata sempre rivista e poi dopo meteoset l'ha presa con qualche incensura ma ha fatto vedere tutta la serie quindi anche dragon ball z la seconda parte e poi anche dragon ball gt nel all'inizio gli anni 2000 quindi tra nel dragon ball z nella nel 2000 e poi dragon ball gt nel 2001 2000 2002 ha preso la serie la serie animata e ridoppiata interamente dall'inizio quindi ha ridoppiato anche le vecchie storie nel 95 vado in eticola una mattina ricordo era aprile mi sembra del 1995 durante le vacanze pasquali da scuola facevo la seconda media e trovo quest'albo in eticola vedo il personaggio e ricordo che era il personaggio dei cartoni animati che vedevo da piccolo di queste sfere del drago questo questo dragon ball e quindi vedo questo questo numero vedi che bello lo lo prendo lo comincio a sfogliare e vedo una cosa che aveva la stessa copertina da entrambi i lati non aveva una copertina una retro copertina classica la cosiddetta terza cosiddetta quarta di copertina terza e quarta di copertina l'ho aperto ed era un po un po particolare allora andiamo a vedere un po quest'albo che cosa succede se lo lo si apre normalmente io li ho mantenuti nelle bustine trasparenti come vedete per conservarli sono in ottime in buone condizioni quello che avevo fatto era appunto prendere quest'albo in questa maniera e aprirlo così e a un certo punto mi son detto ma come mai quest'albo inizia in questa maniera con questa storia un po qui particolare e giustamente qui c'era c'erano delle delle immagini di solito uno non leggeva mai la posta e tutto quanto si vedeva queste cose qui e ho detto è particolare strano a certo punto mi imbatto in questa cosa in questa pagina qui che era quella di come leggere un manga che era praticamente la le istruzioni le istruzioni di come si andava a leggere un manga al che dico ma questo si legge al contrario c'è rimanga bocca aperta io non sapevo che in giappone i fumetti si leggessero al contrario in italia erano usciti già dei manga la star comics e aveva preso a stampare pubblicato alcuni manga all'epoca pubblicava anche i fumetti americani quindi l'omoragno gli x-men capito in america c'era la star comics ha preso in mano questa pubblicazione dopo la vecchia corno e io avevo visto alcuni fumetti e in particolar modo io avevo letto soltanto dei manga che erano stati pubblicati dalla granada press la granada press li pubblicava tra virgolette ribaltati li pubblicava normali quando vado a leggere questo albo e capisco che si legge il contrario si parte dalla fine l'ordine delle delle sezioni delle tavole è al contrario quindi si legge tutto da destra verso sinistra compreso anche i balloon rimango un po' libido il che dico allora devo partire dalla fine ecco spiegato il motivo della doppia copertina al che proviamo un pochettino a leggerlo al contrario apro l'albo e qui vedo esattamente il sommario giustamente no perché si inizia dal sommario la prima cosa che leggo quindi si parte dalla fine e qua c'è la vera prima tavola di dragon ball e si parte da questa lettura la cosa è stata un po' spiazzante all'inizio dico la sincera verità quindi quando comincia a sfogliare dragon ball dico ma devo leggerlo così allora comincia a leggere uno due tre al che c'è una cosa molto molto carina avvicina un pochettino l'albo è guardate ci sono le frecce che ci suggeriscono quello che è l'ordine delle delle sezioni da leggere della tavola ed è molto bella questa cosa perché per chi non è abituato a leggere un manga giustamente al contrario non abbiamo non mai avuto in mano questo è stato il primo albo pubblicato in italia con la lettura classica orientale non quindi occidentale ma la lettura classica che si fa anche in giappone e a un certo punto quando si è in mano questo bellissimo albo queste queste frecce ci aiutano tantissimo quindi si leggeva quello che era all'interno la difficoltà è stata quella di leggere al contrario balun devo dire la verità perché abituarsi con queste frecce a leggere al contrario è abbastanza immediato ma a leggere di tasca lì e balun al contrario un po più difficile stato quindi ci ho dovuto fare l'abitudine al che già a metà albo praticamente la lettura era diventata un po più facile quindi ecco qua la possibilità insomma di leggere quest'albo e questa serie finalmente finalmente al contrario quando l'ho terminato detto mamma mia è stata una cosa un po particolare ci ho preso un pochettino di abitudine devo dire che leggere dragon ball è stato molto bello per l'epoca mi ero molto appassionato a questo a questa serie fu pubblicata tra il 95 e il 97 e mentre era in pubblicazione in italia questa serie qui in giappone stava terminando tant'è vero che se uno legge anche la posta ad un tratto il redattore ci dice appunto che dragon ball in giappone è terminato e che quindi più o meno si possono tirare le somme per quelli che sono le pubblicazioni italiane pubblicazioni italiane che erano ovviamente diverse da quelle giapponesi noi in italia abbiamo cominciato a pubblicare gli albi diciamo edizione quelle viene chiamata sottiletta perché sottiletta perché vedete molto fino qui c'era addirittura messo un titolo ad ogni volume cosa che solitamente non non veniva fatta nei tankabon in giappone le storie vengono pubblicate solitamente su delle riviste pubblicato un capitolo poi questi capitoli vengono raccolti in questi volumi monografici tankabon cosiddetti vengono semplicemente numerati tankabon 1 2 3 se io pubblico dieci storie a volume avrò il numero uno che avrà le storie da 1 a 10 numero due che lavorata da 11 a 20 e così via quindi in italia si è andato anche a dare un titolo esempio qui c'era arriva koku e adesso vedremo le copertine della prima serie nella prima parte quindi del dragon ball classico prima ancora che poi arrivasse dragon ball z e abbiamo avuto praticamente questa questa pubblicazione cosiddetta sottiletta e quindi molti più albi rispetto alla serie regolare in italia sono state pubblicate 62 volumi tranne l'ultimo che era un po più corposo perché c'era poi il capitolo finale il numero di capitoli era sempre lo stesso per ogni per ogni volume che era ovviamente più corto rispetto a quello a quello giapponese che succede che in italia abbiamo pubblicato questa serie adesso vi farò vedere pian piano sono tutti i manteni nelle bustine le altre le altre copertine e vedete che ogni ogni numero ha un suo titolo l'attacco di yamcha sono titoli che cercano un pochettino di raccontare quello che avviene all'interno della del del volume le copertine ovviamente sono diverse rispetto a quello regolare perché perché se io ho più copertine devo comunque metterci qualcosina in più quello che veniva fatto in questo caso solitamente veniva fatto la granata prendeva addirittura dei frame del cartone animato o addirittura del alcuni v ad esempio come è stato per devilman mentre la star comics cercava di prendere quelle che erano le illustrazioni dell'autore che ovviamente poi rilasciava spesso e volentieri in giappone gli autori fanno dei dei volumi di illustrazioni del uscito anche in italia uno molto bello di dragon ball e poi ne parleremo e quindi pian piano pian piano hanno cominciato a pubblicare questi volumi sempre formato sottiletta come potete vedere con illustrazioni diverse alcune sono proprio quelle originali cioè il numero uno di dragon ball aveva l'illustrazione la copertina del numero uno e magari la copertina del numero due noi la trovavamo nel numero tre o nel numero quattro così via venivano praticamente fatte ogni tot pubblicazioni più o meno due tre illustrazioni che non c'entravano nulla con le copertine originali ma questa cosa ovviamente è stata fatta perché è stata fatta volutamente per completare quelle che erano le copertine per esempio questa è una copertina del della numerazione classica che noi troveremo anche su su quello originale e ovviamente qui noi abbiamo magari un'altra un'altra illustrazione che è stata fatta ma che poi come vedete non c'entra nulla con la storia ovvero qui inizia il torneo tenkaichi ma questa copertina che era appunto quella del torneo tenkaichi non non riguarda il torneo ma riguarda la finale del torneo quindi è stata messa dopo questa con i pirati non c'entra assolutamente nulla con la storia però era stata pubblicata ovviamente per completare quelle che erano tutte quante le copertine e devo dire la sincera verità a me è piaciuto molto questa questa serie dopo tanti anni l'ho riacquistata pensate perché io ce l'avevo l'ho poi rivenduta al suo tempo perché comprai un'altra edizione di dragon ball che era uscita quella con la copertina nera con la sovraccoperta ma a distanza di tempo ho voluto riprendere quella originale anche se aveva errori sulla traduzione di alcuni nomi anche alcuni errori avevano addirittura cambiato il font le lettere la scrittura di ballon a un certo punto per poi ritornare su quello iniziale quindi c'erano state queste alterazioni io ho deciso deciso dopo qualche tempo di vendere quella che avevo e riprendermi questa originale che adesso è difficile anche un pochettino trovare uscita fuori catalogo non è molto facile trovare questo formato a sottiletta ma siccome era il primo primissimo formato con cui io ho letto la serie di dragon ball ho detto vabbè allora molto bella dai rifacciamola quella azzurrina vorrei vorrei averla e tenerla tenerla nella mia nella mia collezione attualmente ho solo questa qui di dragon ball così completiamo questa recensione ne sono uscite diverse devo dire la sincera verità ne sono uscite diverse in italia dopo questa edizione qui è stato creato da sempre dalla star comics che ne ha i diritti da dragon ball deluxe è stata pubblicata nel formato originale non con sovracoperta quindi sempre con la copertina flessibile una costina diversa aveva una costina rossa e il formato era il formato originale ovvero si aveva il classico formato praticamente del tank upon quindi con le copertine originali quindi meno copertine rispetto a questa edizione qua non c'erano le illustrazioni ma c'erano solo le copertine originali che l'autore torilliamo ovviamente aveva scelto per la pubblicazione in tank upon di dragon ball questa edizione aveva poi addirittura una una censura un punto mi ricordo quando bulma si tira su la con 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 il maestro muten e devo dire la verità anche la stampa non è che era proprio migliorata rispetto a questa questa è stata una delle prime stampe della star comics quindi la qualità non è proprio il top devo dire la sincera verità anche alcune alcune tavole la qualità della carta è la carta riciclata quindi non era realizzata molto bene così come non fu realizzata molto bene neppure quella della lezione dragon ball deluxe oggi la star comics ne ha pubblicate tante altre ha pubblicato anche un'edizione uscita con la gazzetta dello sport che non è niente male devo dire la verità molto bella ha pubblicato la black edition e poi ha pubblicato una edizione realizzata pensate con copertina rigida un formato più grande e sovracoperta quella la perfect edition ed è l'edizione effettivamente più bella per due motivi la la qualità della carta anche eccezionale carta bianca stampata veramente bene il formato leggermente più grande anche la qualità stessa del dell'albo che è praticamente un mini libro con la copertina appunto rigida ma soprattutto una cosa molto bella di quella serie le tavole a colori noi l'autore toriyama ogni tot storie ne pubblicava una con delle tavole a colori che solitamente erano non proprio colorate come se uno colorasse una una tavola come se fosse una un cartone animato ma lo andava a colorare andava a dare delle delle sfumature di solito erano rosse c'era un chiaro scuro fatto con rosso e alcune colorazioni di alcune parti poteva essere un veicolo comunque la tuta del personaggio queste colorazioni venivano alternate praticamente ogni tot e tavole questa edizione la perfect la la riprodotte perfettamente tutte questa cosa è molto bella perché è molto bella si ha così la possibilità ecco qua riprendiamo il numero uno si ha così la possibilità di avere delle tavole non in chiaro scuro come si può vedere dall'inizio guardate la prima le prime pagine di drago un po le possiamo vedere eccole qua vedete ci sono degli effetti più scuri vedete questi queste colorazioni che c'è qui del terreno o anche qui del fondale rispetto ad altre tavole che come vedete i fondali praticamente sono classici bianchi e nero quindi c'è solo l'uso dei retini e non c'è l'uso di colorazioni a china di alcuni fondali ma ogni tanto alcune tavole vengono vengono riproposte in questa maniera bene l'edizione perfect edition è realizzata in questa maniera quindi è la più bella di tutte è uscita poi anche un'edizione a colori sono albi che vanno da sono stati senza che quindi c'è la prima saga col primo torneo la saga del grande mago piccolo la saga dei saiyan la saga di namek la saga di sel e l'ultima saga di majin bu quindi ogni volta la numerazione parte dal numero uno quindi che ne so da una sette poi una cinque sono delle saghe sono è semplicemente ricolorato completamente come uscito in giappone una colorazione fatta al computer ed è bellissimo bellissimo alcune tavole sono state anche rifatte corrette ci sono anche delle sezioni diverse quindi alcune tavole sono veramente sono veramente diverse e praticamente sembra di vedere un anime comics praticamente siamo 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 lavorando con una leggendo un anime comics però il fascino del dragon ball originale di quello in bianco e nero ovviamente lo mantiene soltanto queste queste edizioni qui il mio consiglio su quale acquistare l'appassionato io ne ho avute praticamente tra le mani tre di queste edizioni ho avuto l'edizione della gazzetta che poi ho rivenduto l'edizione deluxe e questa edizione qui io sono ormai innamorato a questa per un fattore di storia mi ricorda quando ero bambino quando l'ho comprata che ero facevo le scuole medie mi avevo iniziato da poco le scuole medie mi ricorda alcuni periodi a metà degli anni 90 al 95 96 97 ricordo che l'ho finita a leggere quando facevo le scuole superiori no quindi seconda media prima media terza media primo superiore iniziai il secondo superiore uscì l'ultimo l'ultimo albo ricordo che in classe c'erano degli appassionati c'era un amico che lo disegnava quindi aveva questa edizione in quale la portava in classe ogni tanto distrattamente all'ultimo banco disegnava mi piaceva anche a me disegnare quindi ce li scambiavamo spesso devo dire la sincera verità che questa edizione è quella che adoro di più quindi il mio consiglio per gli acquisti è ovviamente questo non è facile trovarla completa non è facile trovarla in buone condizioni e il prezzo di questa edizione è salito parecchio 62 albi oggi l'ho vista vendere a 250 300 euro anche quindi una media di 4 euro ad albo stiamo parlando il prezzo di copertina come potete vederlo all'epoca era di 3200 lire cioè non costava poco per essere un fumetto anche di un formato piccolino pensate un di andò che stava mi sembra sulle 2007 quindi 100 pagine sempre bianco e nero leggermente più grande qui erano 112 pagine però in un formato molto più piccolo come carta quindi come dimensione non aveva tavola colori ed era pezzo di manga è sempre stato leggermente più alto delle delle produzioni ovviamente italiane trovare l'altra edizione insomma mi costa vi costa un pochino c'è un'edizione però che ecco che non ho che non vi ho nominato prima che la evergreen edition che è esattamente un'edizione che hanno ripreso da quella giapponese che è uscita ultimamente evergreen perché appunto ha la scritta in verde anche la costina in verde in italia è stata realizzata a non ha una sovracoperta ma le pieghe praticamente qui sul lato della copertina è molto bella ha una qualità di stampa eccezionale la carta è eccezionale non è a colori come la perfect edition però si trova a buon mercato e se volete leggere dragon ball avrete in mano un'edizione non censurata senza errori di stampa con un lettering fatto normale per tutta la serie non alternato come in questa e soprattutto ad un prezzo facilissimo cioè un pezzo di copertino perché sono facilissimi da trovare vengono sulle 6 euro ad albo e non spendete tantissimo avete una serie eccezionale tra quella della serie della gazzetta più o meno avrete le due io io vi consiglio l'evergreen se volete spendere qualcosina in più e per il prezzo di copertina già di come per come era uscita e per il fatto che qualche albo è fuori catalogo c'è la perfect edition quella colori che ha le tavole a colori e su quella andrete ovviamente a colpo sicuro ovviamente occupa più spazio come dimensioni come altezza che il volume è abbastanza più largo ma devo dire la sincera verità è molto bella io ho questa da cui sono affezionato e me l'ho riletta qualche tempo fa e sono sempre stato sono stato molto contento di questa di questa edizione perché mi ricorda mi ricorda l'infanzia mi ricorda quando appunto ho conosciuto dragoball fumetto nelle ticole e poi nelle fumetterie come sempre io spero che questa recensione mi sia piaciuta vi ringrazio per esservi soffermati sul mio canale vi invito ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati specialmente sui manga vi invito a lasciare i vostri commenti mi raccontate insomma anche alcuni pareri se avete sulle varie edizioni di dragon ball come in questo caso e se vi è piaciuto il video mettete un vi piace io vi saluto ci vediamo la prossima recezione ciao a tutti da leonard